Abbiamo appena visto una carta leggendaria, aspetta aspetta ti fermati perché io non voglio parlare di questa perché non l'ho capita, se vuoi da schifo, non c'è problema, non l'hai capita addirittura, no, l'ho capita, non hai capito perché esiste, perché è leggendaria, perché costa così tanto, perché, allora aspetta, fammi finire, costa 5, è un 3,8 e fin lì tu dici va bene, Dopo che hai lanciato una magia, guadagna spell damage più 1, quindi la prima magia che lanci non ha spell damage, dalla seconda, la seconda che lanci se fa danno ha un più 1 e guadagna più 2, ok? Ora, boh, io veramente non so dove, non so, ti lascio parlare perché veramente non l'ho capita io, ed è uno slot leggendario che hanno messo per il mago, e qui mi triggero come per la 4. Guarda, tu quando vedi una leggendaria che non vedi che ovviamente OP ti triggeri, nel senso, se tu non vedi che una carta leggendaria è forte... Non che OP, è che, dico, boh, almeno dai spell damage più 1 da subito. Guarda, quello che ti posso dire è che ormai si è perso un po' il vedere una carta leggendaria e quindi associare l'OP alla carta leggendaria, caro capito, cioè ormai Arson l'ha persa questa cosa, è anche giusto che sia così. Cioè, le carte leggendarie sono carte sicuramente forti, ma non sono molto forti perché leggendari, hanno un sacco di carte comuni, rare ed epiche, che sono più forti di carte leggendari, capito? È certo. Il motivo per cui alcune carte sono leggendarie è perché la scelta o l'idea di poterle mettere in doppia copia potrebbe essere sbilanciato per un mazzo che si viene a creare, ma non perché la carta è effettivamente OP. Ma è proprio per quel motivo che dovrebbero essere più forti. Per esempio, continuo sempre a dire, però la mummia, la 3-2 con Reborn, secondo me è più forte, magari dico una bestemmia, è più forte della 4-2 con stealth leggendaria del ladro. Sì, vabbè, però vedi caro, sto riferimento a due classi diversi, a due engine diversi, è molto difficile fare paragoni, soprattutto quando si parla di classi diversi, capito? Sono d'accordo con te, però magari, cioè magari, in uno stealth rogue, se dovesse esistere, tu la mummia non ce la metteresti mai e ci metti Lilian. Hai capito quello che ti vuoi dire? Cioè, fare un confronto di carte è come se tu metti a paragone... Eh, ho capito, però io ti sto parlando di una leggendaria contro una comune. Volevo dire Malikos, è come se metti a paragone Malikos e Alexstrasa. Cioè, Malikos e Alexstrasa sono due carte molto forti, ma come fai a decidere chi è più forte? E lo decidi in base al deck in cui viene inserita. Poi, ho fatto un esempio stupido, perché Malikos e Alexstrasa si mettono nello stesso deck. Malikos e Zefris, oppure Malikos e Grommash. Ti capisci? Uno può dire, cazzo, questa è più forte rispetto a quella. Perché? Perché l'altro... Tu come la valuti questa? Allora, adesso, per quanto invece riguarda quello che credo di Mozaki, la mia valutazione, in realtà, di questa carta, forse la prima valutazione, effettivamente, che avrebbe insufficiente, perché non riesco, onestamente, proprio a inquadrare il motivo per cui questa carta è stata stampata. Mi rilasso un attimo allora, ok? Sì, no, no. Penso di essere uscito di testa io. No, 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 non sono amante di questa carta, non mi dice assolutamente nulla. Non riesco nemmeno a vedere, effettivamente, un mazzo che ha tutte queste possibilità di dare, effettivamente, valore a livello di spell damage. Cioè, quando tu reggi, ogni volta che giochi una spell, guadagni quello, allora uno fa sempre riferimento a un mazzo sorta tipo TK, no? In grado di fare danni bestiali con i spell damage. Quindi, che cazzo ne so, un mazzo in cui tu giochi questa carta, probabilmente un mazzo tipo quello in cui viene giocato l'elementale 2-2, no? Quello che cica un sacco di carte, che gioca un sacco di carte a costo zero, anche con la Novice Engineer, la Sorceress, perdonatevi, la 3-2, per poi avere cosa? Uno spell damage di più X, che potrebbe essere assolutamente di più 5 e più 6, per poi aggredire l'avversario con, boh, missili arcani, frostbolt, cose del genere. Semmerebbe essere un mazzo, non dico TK, però un mazzo del tipo Bust Mage, ok? Sì, ma è una carta che questa vuole rimanere in campo per poter essere utilizzata al turno dopo, però non è possibile. E appunto, caro, per quello che ti sto dicendo, che visto e considerato che in quel mazzo tu tendi a giocare tante spell a costo basso, è una carta invece che deve trovare valore proprio quando tu la giochi sul campo, perché se la metti sul campo e te la distruggono, anche se comunque è una 5-mana 3-8, quindi le stat, sotto quel punto di vista, sono ottime. A 5-mana, regale, 8 di salute, è tanta roba su Arson, ovviamente perde in attacco, ma questo è ovvio. Però se tu, diciamo, la perdi, effettivamente non prendi il valore di questa carta. Cioè, questa carta dovrebbe essere giocata in combo, forse con la Sorceress, per giocare e fare quel turno sbagliato con le spell a zero, che ti danno valore. Exodia a schifo, insomma. Oppure esiste ancora il Cyclone Mage? Sì, il Cyclone Mage è appunto l'elementale 2-2 che ti dicevo adesso. Ah, ok. Il mazzo è quello. Questa è una carta che potrebbe essere messa per andare a migliorare, o perlomeno dare una nuova aggiunta al mazzo come il Cyclone Mage, che attualmente fa la fame. Calcola che nel Cyclone Mage, ho visto qualche lista, si gioca la 2-5, che ti evoca 5-5 ogni 3 spell giocate. In 3 spell, sì. Ok, quindi sai, magari questa carta voi in quel mazzo ce la mettete, regà. Ma ce la mettete non perché è forte, o perché sia forte. Ce la mettete perché è una carta comunque decente, una carta decente, che potrebbe aiutarvi a livello di spell damage, quindi di burst, perché alla fine il mazzo vince con burst. Però il fatto è questo, che la carta non è assolutamente versatile, zero proprio, perché è una carta che va bene solo in determinati tipi di mazzi, che questa carta voi non la mettete, secondo me, da un Under Mage. È la cerimonia al maulo, però effettivamente rispetto alla coraula, sei idiota, sei cretino. Certo, è 2-3 costa 4 mana, però vabbè. Sì, ho capito, ma è una carta value base quella. È una carta messa in altri mazzi, capito? Cioè, è una carta diversa, caro, è diversa. Probabilmente questa farà schifo lo stesso. Spell burst, summon a student with taunt, con stat uguali al costo della spell, ok? È molto chiaro, è molto semplice. Giochi una spell che costa N mana, la prima volta che la giochi, dopo che chiaramente hai messo l'arma, evochi uno studente NN. È abbastanza semplice, è abbastanza stupida. È una carta B classe, un'arma B classe, giocabile sia per il vuoro che per il paladino. E il pezzo che evoca c'è pure taunt. Spell a 10 del guerriero. Vedo che la spell a 10 del guerriero è una carta di merda, caro. Vaffanculo al studente 10-10 con taunt, giustizia. Però invece questa qua può avere una sinergia inleitissimo, magari su un paladino, che magari mi piacerebbe anche rivederlo tanto in meta. Con la spell mi sembra 8 del paladino, che già ti evoca un... Che è l'Ibram, se non sbaglio. L'Ibram padre. Che ti evoca un 8-8 con taunt, scuro divino. Sì, se è quello che te cura, ti evoca un 8-8 con taunt, scuro divino. E che ti cura. E ti evoca anche la. Sì. Sai qual è il fatto, però? Che sembra stupido, ma in realtà non è che ti costerebbe 11 mana la combo. Quindi è una combo che effettivamente non puoi fare, ma dovresti fare come giocata combinata in due turni. Eh, ma l'Ibram però te lo puoi anche scalare in realtà, eh? Esatto, è vero. Quindi te lo scali però, perde valore con l'arma. Perde valore, no? Alla fine non è che te lo puoi scalare così. Però hai sempre un 8-8 già di base, più un'altra roba. A parte comunque, diciamo, queste situazioni, questa, ragazzi miei, è una carta. In realtà non possiamo nemmeno affidare questa carta a uno stile contro l'agro mid-range, perché ovviamente sarebbe stupido. Qualsiasi mazzo, effettivamente, se gioco a una spell che solitamente potrebbe darti tempo lost, no? Perché è una spell magari che mina a pulire board, oppure a curarti, eccetera, eccetera, non è male avere comunque un taunt. Però questa cosa la paghi con un'arma 3 mana 2-2, che quindi è un'arma indecente, e che non so se effettivamente ha la potenzialità corretta per essere messa, diciamo, in slot del guerriero o del paladino. Allora, col guerriero è sempre vero che c'hai, diciamo, piuttosto, c'è consistenza nel prenderla in mano, ma ormai è appurato che il guerriero ha trovato il suo status perfetto a livello di armi, perché le armi che c'ha il guerriero che lo rendono terribilmente forte, grazie non solo all'allocorster cash che ti fa pescare, ma proprio le armi, le armi che sono forti, sono forti, sono quelle che ti dà il Hakei, che è fortissima, e poi quella che ti dà le pirati. Ora, diciamo, entrando in un meta di questo tipo, a prescindere dal fatto che quello che fa questa carta, secondo me, la rende bilanciata come carta a sé stante, perché comunque è bilanciato, alcuni potrebbero pensare che questa assomiglia all'arma di Medivh, ti ricordi? Buonanima, che quando giochi una spell, ovviamente quella è l'arma 1-4, quindi quattro volte che giocavi la spell, quindi snuvollava bestia, questa succede solamente prima volta, però è una carta che comunque è cosa tremmana, è diversa da Medivh, ti dà questo taunt, per... Guarda, sai che mi ricorda ancora di più? Mi ricorda quel simpatico... quella simpatica tigre del paladino che c'ha la stealth, che ogni volta che il giocamina a spell, ti ricordi? Sì, la 0-3. La 0-3. Ok, la 0-3. Regà, la 0-3 ha trovato tanto gioco, beh, l'ha trovato, ma non così tanto, e soprattutto lo 0-3, ogni volta che tu spawnavi Castavi Spell, ti evocava un pezzo con taunt, è corretto? Sì, 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 ogni volta. Beh, diciamo, secondo me questo paragone, questa similitudine, è giustificabile, non solo perché si tratta della stessa classe, ma perché si fa, parla praticamente dello stesso effetto. Con la differenza che non era un'arma, e che però... È una creatura, ok. Sì, è una creatura che c'hava stealth e per ogni spell ti generava comunque un pezzo... Non so se aveva taunt, non ricordo. No, 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 no. No, no, 0-3, no. Non aveva... No, 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 i pezzi che spawnavano 0-3. Non mi ricordo se avevano taunt o meno. L'ho giocata mezza volta quella tigre lì. Vai, a me sta carta non mi piace. Niente, no, non aveva taunt. Non aveva taunt. A me che sta carta non mi piace per due motivi. E ve li dico tranquillamente, perché la carta, ripeto, è bilanciata, eh. Cioè, la carta è bilanciata, però, lo dobbiamo ripetere ancora, che noi non vogliamo giocare a carte bilanciate, non vogliamo giocare a carte sbroccate. Noi vogliamo giocare a skipper, capito? Non vogliamo giocare quella che c'è vocal in P1-1. Vogliamo giocare a skipper. Vogliamo giocare in Nell Rage. Vogliamo giocare quella che ci copie pezzi. Sì, vogliamo giocare carte di questo tipo. Non credo che noi vogliamo giocare la ceremonial maul. Anche se è una carta bilanciata, anche il crocolisco lo è. Però non lo giochiamo. Per il guerriero è un'arma che si dovrebbe mettere in un pool di armi all'interno del mazzo che sono meglio di queste. Perché quella che è bogella key è davamente forte per gestire board. Quella che è tutora pirati è fortissima perché ti permette di pescare carte dal mazzo. Per quanto riguarda il paladino, stendiamo un velo pietoso perché non c'è motivo adesso di parlare di paladino. Quindi è una carta che comunque vedo meglio in paladino rispetto a Warrior. Questo è matematico ed è normale. Anche tu caro hai parlato subito di libri. Non hai parlato di inner rage per avere un 0-0 con Taunt. No, anche se credo che sia impossibile come cosa. Secondo me la giocata più forte che può avere il guerriero qua è con la tre mana cinque armor perché almeno ti fai cinque armor e ti di un pezzo a tre. Allora, cinque mana quattro cinque classe sciamano. Rantor di morte evoca tutti e quattro i totem overload di due. Io ho visto che lo sciamano adesso ha tanti tool per potenziare e buffare i totem. Sdoppiare. Dove l'hai visto il totem sciamano, caro? Come? No, dico, il totem sciamano dove hai avuto modo di vederlo per curiosità? I night legend? Dove? No, vabbè. L'epoca partire che cosa faccia. Ho fatto una botta un po' tossica. No, no, prego, caro, continuo. Un po' tossico. Però, boh, sta carta non mi sembra fortissima, non mi sembra neanche forte. Hanno rotto il cazzo, Dio santo, hanno rotto il cazzo a rompere i coglioni su sti basic totem. Da quando è uscita quella carta di merda che se c'avevi tutti i totem evocava la gear. Ma qualcuno l'ha mai evocata la gear con sti cazzo? Sarebbe stato forte se diceva che può summonare quattro totem che potevano essere base o anche degli altri totem. Sì, ho capito. Ci sta. Summona quattro totem sarebbe stata sicuramente molto forte, diciamo. Però, per l'Od2 magari Wilde che c'è il 3-4 che c'è stato. Vabbè, Wilde, ok. Wilde, poi un altro conto è incestinata la spazzatura. Allora, io non lo so, regà. Questa è una cinque mana quattro cinque che c'è overload di due. Che come rantro di morte sì, evoca quattro pezzi che sono quattro totem ma come dici tu puoi sicuramente andare a scompare sui totem puoi dargli due salute o due attacco puoi giocare l'arma per sdoppiarteli puoi anche andartene a fare in culo però perché poi alla fine ti ci mando perché sai stiamo parlando di un gioco che probabilmente è un gioco diverso da quello che poi giochiamo tutti i giorni qualcosa che sicuramente qualche partita magari una partita su 20 ti capita ed è veramente forte ma che poi devi fare i conti sul fatto che questa è in cinque mana quattro cinque che ti dà overload di due che poi in onestamente il problema di per sé della carta è proprio il fatto che abbia questo overload perché altrimenti non sarebbe manco stata male anzi cinque mana quattro cinque che come rantro di morte dispone a quattro totem una carta che ha come tag il tag totem sarebbe stata comunque una carta secondo me addirittura giocabile in uno shaman che era attualmente ingiocabile questo poi è un altro discorso esatto overload di due ma per quale motivo mi dà overload di due ma che sei impazzito ma sei pazzo overload di due è tantissimo overload di due tra l'altro all'inizio non ha manco dato lo shaman l'overload era giustificato dal fatto che erano proprio molto potenti in quel turno quelle cose bravo l'overload lo pagavi perché la carta era talmente tanto tempo ok cioè faceva talmente tanto rispetto al costo che poi lo pagavi il turno dopo dovevi avere un drawback perché bilanciava il tutto ok qui tu paghi per due mana a un turno 6 che potrebbe essere un turno di rival importanza contro aggro in cui per carità per due mana lasciando il fatto delle v di meno 0.5 che è poca cosa che sarebbe in 5 mana 4-5 senza effetto con due mana ci paghi quattro totem per carità ci sta il fatto è questo ma te dei quattro totem cosa cazzo te ne fai no a parte scherzi dai che ci fai però te la puoi te la puoi buffare te la puoi sdoppiare con le carte nuove che ci sono no questa stessa qua quali sono le carte nuove che ci sono che te vuoi ci sono delle delle carte che ti buffano i totem questo è un tag totem ma ho capito ma non sono carte nuove sono carte che ci stanno anche adesso si nuove nel senso vabbè scusami la sinergia più forte con questa carta ovviamente con la spell a tre te costa otto mano però però è troppo non lo so non mi convince te costa te costa otto mana la giocata è sicuramente molto forte perché evochi due sei sette ok che hanno come rantolo di morte lo swarm di totem come è fatto sto mazzo è un totem che non ci stanno neanche in bordo tutti quanti perché sono otto quindi si vabbè comunque a te non ti interessa probabilmente ti interessa più la quantità di pezzi in un mazzo che con la spell a zero può dargli più di attacco che c'è anche bloodlust però quante volte noi ti ritroviamo sempre a dire che questi mazzi sciamani che vogliono diciamo improvvisarsi druidi che poi alla fine vincono con bloodlust alla fine il tuo che sciamanz è mai fatto a parte il meta in cui c'era effettivamente la tessina il 3-6 il 3-6 te lo ricordi il 3-6 che quando giocavi carte coverlust ti evocava gli 1-1 allora sì in quel caso anche se non era un totem era solamente in agro allora sì Luca questa nuova carta rara del demon hunter forte? boh secondo te? non lo so ma soprattutto ma soprattutto è di arson questa carta? cioè è di arson l'hai letta? l'ho letta l'ho letta shuffle your hand into your deck pensavo a tolarti altra mischia la tua mano la tua mano nel mazzo pesca 4 carte e ripudio se 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 volete sapere volete sapere adesso il tuo oppo fa la stessa cosa sei leggendo una cosa mi ricordo questa carta questa carta qua vaffanculo sai vi dico ma stampassero più carte di questo tipo perlomeno ci avviciniamo veramente in gioco che può avere valore comunque ah no porca troia caro allora ora ora ne discutiamo ma se c'hai due carte o una carta sola no raga veramente ce la so se ci giocavate però dai veramente siamo ci giocate ci abbiamo giocato a tcg online di pokemon no io appena ho letto sta carta mi sono ricordato del buon professorenne che praticamente su pokemon faceva una cosa abbastanza simile che entrambi i giocatori rimettevano le carte e in base alle carte premi pokemon è un gioco abbastanza particolare molto divertente ecco in base alle carte premi ognuno pescava la carta ecco questo è un po' simile se c'ha outcast anche l'avversario fa quello che stai facendo tu se l'avversario ha 8 o 9 carte se ne ritrova 4 in mano quindi è buono anche per quello allora io non so se diciamo magari ho una visione magari distolta ma andando un attimo a spararla brutta e buttarla là questa carta probabilmente potrebbe essere rotta e te lo dico tranquillamente questa carta potrebbe essere tranquillamente OP e potrebbe essere assolutamente una carta che necessita un nerf nella prima settimana di gioco allora tu consigli ho paura che tu abbia ragione no no veramente a parte di scherzi leggiamo un attimo per quello che è considera un mazzo agro di mon hunter ok il mazzo agro di mon hunter è un mazzo molto forte perché non solo riesce a mettere body a fare tutto quello che fa grazie a carta sbroccata è un mazzo che riesce anche a pescare però è anche vero che un mazzo per quanto riesca comunque a pescare è comunque un mazzo aggressivo è un mazzo che poi per carità rimani senza carte rimani senza carte no qualora tu rimanga senza carte no giocare 4 mana per pescare 4 carte e quindi fondamentalmente se sei senza carte l'outcast si attiva e l'avversario che magari è un mazzo che ha bisogno di risorse tipo che ne so il quest lock o comunque anche un mazzo contro come il Galacron Prista no che ha bisogno effettivamente di tante carte per rispondere alla tua board rimette le carte ne pesca solo 4 vuol dire che pesca poche carte che il tuo dopo ha 5 carte e che quindi ha poche risorse per andare effettivamente a danneggiarti su board cioè se sta carta se ce l'hai all'inizio tra l'altro gli fotti anche il malligan che si è fatto lui perché lui si sarà tenuto delle carte utili cioè io questa carta ho paura perché mentre che tu stai a late game no e tu giochi questa carta in late game come ultima carta nel tuo mazzo tu a 4 mana peschi 4 carte l'avversario pesca solo 4 carte e tu continui chiaramente a mettere pressione e aggressività boh io è rotta perché costa anche 4 non lo so è in curva proprio con l'aggro perché non lo so cioè io mi ricordo di un'arma arrottissima per l'hunter a suo tempo che era praticamente una spella a 2 mana che faceva 3 danni che se era l'ultima carta in tua mano ti faceva pescare una carta quella carta è stata rottissima perché vabbè lì facevi danni perché era un face ma c'è questa raga a 4 mana ti fa pescare 4 carte se hai 0 carte in mano ovviamente e per uno studio di gioco come quello dell'aggro di Monlock di Monanter che sto dicendo non è proprio che sia così difficile pescare 4 carte considerate tra le altre cose che il mazzo ha lo school of Gul'dan quindi considerate che comunque la carta potrebbe tranquillamente costarvi un mana e avete fondamentalmente fatto e capito il motivo il mio punto di vista che reputa questa carta secondo me molto forte e attenzione l'outcast rende secondo me OP la carta l'outcast rende OP la carta il fatto che l'avversario rimetta le carte nel mazzo e ne ripeschi solo 4 rende secondo me la carta veramente tanto forte e tanto versatile e anche poco costosa ma finalmente c'è una nuova cosa in Erson si va ad agire anche perché timidamente prima lo si è fatto magari con Locke con la carta che scartava una carta che ti faceva bruciare una carta tra i ricordi un 2 mana qualcosa eh per quello assomiglia a una carta di Pokémon perché è più che altro di Magic è bello perché vai ad interagire nella mano dell'avversario e li vai a romperle ma comunque sia Magico se dico Pokémon dico Magic cioè Pokémon l'ha inventato Magic quindi se dico Pokémon ovviamente poi intendo Magic arti fatte e tutto il resto chi è che ha inventato Magic scusa Pokémon non lo so nel 93 nel 93 ragazzo noi iniziamo ecco lui è il tipo che inizia con le date perché nell'85 effettivamente Magic io andavo alle superiori io ecco è proprio il tipo proprio maschio che gioca a Magic quando ero io che da ragazzino rubavo i mazzi rossi e poi tutti i giochi sono andati e vabbè caro c'è ragione tu ave ave Dio Magic ma è che c'ho ragione io è così ma io ti sto a vedere il culo lo so che è così caro so che Ars è un gioco di merda e Magic è un gioco figo però che devo fare io Ars non so giocare non so se tu non conosci oppure no ma gli spacca i culi con il buratello bro c'ha le carte fanno parte di un giochino in cui non crea delirio e arte eeeh c'agherizano a trick Grazie a tutti